Come tutte le grandi invenzioni che hanno risolto problemi inestricabili è semplice e geniale al tempo stesso, come si dice in gergo è l'uovo di colombo. L'idea che sta alla base di questa soluzione per rimediare all'erosione della spiaggia è semplice, trattenere la sabbia che il mare durante le mareggiate porta con le onde anziché farla andare via e a seconda di dove la si posiziona la spiaggia si riforma. Vedere per credere e non bisogna nemmeno andare tanto lontani per vederla all'opera, il suo prototipo si trova lungo l'arenile di Torrette e ad averlo progettato e realizzato assieme a un suo amico ingegnere Walter Nicoletti, bolognese di nascita ma fanese di adozione. Come l'è venuta questa intuizione? Per puro caso, io non mi voglio ritenere un inventore, non mi voglio ritenere niente, sono un uomo, una persona comune, di cultura anche molto modesta, però l'ho visto così. Un giorno sulla spiaggia di Acesenatico mi è capitato di vedere un tronco e un tubo e una lamiera appoggiata a un bagno. Dopodiché una brava persona, un ingegnere che mi ha fatto un gran favore, mi ha dato una mano, una gran mano, lui me l'ha brevetato, l'idea l'ho avuta lui, per una gran fetta di merito è sua. Questi sono moduli di 3 metri, allarghi 90, alti 70, vuoti sono 380 kg, pieni sono 14 quintali d'acqua. Questo è il trassone che contiene l'acqua e quello là è lo scivolo. L'onda quando arriva sale su, perché sale nello scivolo, sale, perde potenza, quando si scarica dall'altra parte nel ritornare indietro lascia la sabbia qui davanti. Qualcuno l'ha già proposta? Sì, qualcuno l'abbiamo già proposta, anche enti pubblici di un certo spessore. C'è un po' di interesse? Sì, c'è un po' di interesse.